Spacciavano eroina a Gimarra, la stazione ferroviaria in via del muletto a Fano a pochi passi dal litorale e dal fiume Erzilla, fino a che i carabinieri non li hanno arrestati in flagranza di reato. Già da qualche mese le forze dell'ordine erano sulle loro tracce, dalle indagini era emerso che la merce veniva acquistata in campagna, portata Fano, tagliata e immessa sul mercato. Poi all'arrivo della droga i pusher avvisavano i tossicodipendenti della città e della provincia che si ritrovavano sulle piazze di spaccio. A un certo punto però all'interno del gruppo di spacciatori sono nati degli screzi, due magrebini non si fidavano più dell'amico che aveva iniziato ad iniettarsi troppa eroina e per far tornare i conti doveva tagliarla pesantemente. I clienti si lamentavano per la scarsa qualità e accusavano un malurifino all'overdose. Così i due di 33 e 50 anni si sono separati dal terzo che poi ha deciso di mettersi in proprio. Lui era conosciuto come lo sporco ed era stato arrestato qualche settimana fa per aver rapinato una ragazza alla stazione ferroviaria di Fano mentre stava prestando dei soldi ad un'amica che aveva acquistato eroina. Nel frattempo invece gli ex soci sono andati in campagna a procurarsi un altro carico di droga. Durante questo viaggio però i carabinieri li avevano perquisiti ma della droga non c'era nessuna traccia. I sospetti dei militari erano nati dai telefoni cellulari dai quali i due avevano tolto batterie e schede SIM. Così i carabinieri li hanno fatti sottoporre ad un esame radiologico all'ospedale Santa Croce e l'esito ha confermato i loro dubbi. Nelle cavità addominali avevano sei ovuli contenenti 260 grammi di eroina che tagliata e immessa sul mercato avrebbe fruttato poco meno di 45.000 euro. Terminata l'evacuazione e l'udienza di convalida che si è tenuta direttamente a San Salvatore di Pesaro dove la coppia è stata ricoverata, i due magrebini sono stati trasferiti in carcere.